Va bene, grazie Paolo per l'introduzione. Quello che vi racconterò oggi io, sia io, la prima parte è fatta da me, la seconda parte è fatta da Francesco, è il progetto che stiamo portando avanti, come vedete in collaborazione con un sacco di persone, che mi fa piacere elencarle, che sono i miei stagisti, i tesisti, con cui ho collaborato a portare e la gran parte di questi progetti è una fase che naturalmente non è una fase che già porta risultati applicativi o pubblicazioni, ma certamente hanno collaborato all'attività. Blockchain vSuite è un salto tutta la parte di motivazioni che poi magari vi dirò. In realtà è una suite, cioè un insieme di applicazioni, il cui scopo è quello di creare una serie di strumenti che permettono di analizzare la blockchain e quello che succede sopra, sia da un punto di vista statistico, conoscitivo, ma anche da un punto di vista di analisi forense. Diciamo, infatti, uno dei motivi principali che ci ha portato a questa attività è a cercare di fornire uno strumento che permetta di andare a cercare all'interno delle transazioni in blockchain, le transazioni, aperte virgolette, cattive, ovvero transazioni fatte non veramente con scopi di, o certi applicativi che usano la blockchain o applicativi che sinceramente sono trasferimenti finanziari veri, ma andare a cercare le transazioni che nascondono dei traffici illeciti, pagamenti di armi, tutte queste cose qua. Allora, come vedete, la suite è fatta da vari componenti, di cui io vi parlerò di queste tre componenti che sono in versione alfa, invece Francesco vi racconterà un po' di più, dandovi un po' più dettagli su questa parte di sinistra. La suite quindi è composta da un nodo bitcoin, un database che trasforma questi dati bitcoin in un formato che è più facilmente interrogabile rispetto a quello che noi dobbiamo farci, che poi vi dirà dei dettagli, Francesco, come è fatto il formato, più una suite di visualizzazione, dove entra in dettaglio lui, più queste tre componenti, che ora vi vado a descrivere che sono componente di scrapping, componente di ricerca delle mixnet e componente di clustering. Non mi ricordo in che ordine lo sono elencato, che è questa qua. Per scrapping, il scrapping è una parte di questo, un modulo di questa suite, il cui scopo è di cercare di dare un'identità ad alcuni degli indirizzi presenti nella blockchain. Abbiamo detto che gli indirizzi di blockchain rappresentano un identificativo della transazione che rende le transazioni pseudo-anonime. Quello che vogliamo noi è provare a utilizzare gli indirizzi presenti su delle chat, su dei siti web, su dei siti web che fanno e-commerce, che accettano pagamento in bitcoin, dove viene rivelata l'identità dell'utente, in modo da associare in qualche modo l'identità dell'utente all'indirizzo bitcoin. Quindi abbiamo fatto un applicativo che essenzialmente cosa fa? Va a cercare all'interno di pagine web che gli diamo come input, noi possiamo dargli come input o un sito web o una specifica URL, una stringa che rappresenta un indirizzo bitcoin. Quindi è stato fatto un parsing che va a cercare tutte le stringhe e verifica quando una stringa è un indirizzo bitcoin. Quindi c'è una prima parte di crawling, ovvero gli diamo un indirizzo, viene scaricato nel caso di un sito web tutte le pagine del sito web, vengono analizzate le pagine web e si va a cercare in quale pagina web eventualmente compare un indirizzo. Quando troviamo l'indirizzo, quando viene parlando l'indirizzo, l'indirizzo viene salvato in un db e viene associato all'indirizzo la pagina web dove viene trovato l'indirizzo, viene salvato il contenuto testuale della pagina, perché la pagina potrebbe cambiare e non avere più il contenuto testuale, il link potrebbe non più essere valido dopo un po'. E quindi in qualche modo abbiamo fatto il primo mapping tra informazioni presenti su web e indirizzo. Oltre a questi, che sono una ricerca all'interno della pagina web, naturalmente siamo andati a cercare dei database, degli etichettamenti già fatti di questi indirizzi che sono presenti su Bitcoin Talk, Bitcoin OTC, sulla vecchia casciasse, insomma su un po' di siti web già strutturati per avere la presentazione dell'indirizzo. Una volta fatto questo, quindi c'è tutta un'interfaccia web che permette una facile utilizzo di tutto quanto, vengono salvati queste etichette. Anche il collega Pisano ha raccontato una cosa simile dove viene fatto questo etichettamento di indirizzi, la seconda cosa che viene fatta, questo voglio dirlo dopo, una parte di un'attività di clustering, ovvero siccome il numero di indirizzi associati a una identità non sono molti in realtà, occorre un metodo, una qualche euristica per cercare di trovarne un po' di più di queste associazioni. Il metodo classico che viene fatto è quello di clustering, ovvero raggruppare indirizzi con l'ipotesi che questi indirizzi appartengono allo stesso utente. Noi, oltre alla classica euristica multi-input che vi hanno già raccontato, abbiamo messo a punto altre tre euristiche che adesso vi racconto un po' e vi do la motivazione del perché secondo noi sono valide. Una l'abbiamo chiamata uno a uno, ovvero quando nella blockchain ci sono delle trasferimenti di denaro senza resto, quindi precisamente da uno a uno, la nostra ipotesi è che questi trasferimenti vengono fatti essenzialmente per spostare o per raggruppare del denaro e gli indirizzi che coinvolgono sono essenzialmente dello stesso proprietario. A meno che gli indirizzi coinvolti siano di un exchange server, perché se sono di un exchange server in realtà sono trasferimenti completi del bitcoin ma verso un'altra identità, perché è uno scambio di moneta dal mondo virtuale al mondo reale. L'altra euristica che abbiamo messo a punto sfrutta le multisig. Le multisig sono un tipo di transazione che secondo me forse sono anche quelle che ha utilizzato forse nei contratti cui parlava Zunino prima. Sono delle transazioni che permettono di trasferire denaro non da un input a un output o a più output, nel caso di NAM, ma sono delle transazioni dove posso scrivere a programma, posso trasferire il denaro solo a condizione che almeno uno dei tre indirizzi di output venga mappato. Perché viene fatta una transazione di questo tipo? La nostra ipotesi è che una delle motivazioni è che una persona possa avere più indirizzi in caso di assicurarsi la possibilità di ricevere il pagamento, nel caso magari che un indirizzo ce l'ho memorizzato in un wallet che c'ho in un computer, in un portatile. Voglio essere sicuro che se per caso perdo il computer ho comunque la possibilità di non perdere il denaro posso mettere qui altre chiavi alternative da utilizzare. Quindi in questo caso noi diciamo che questi tre indirizzi che sono presenti in una multisig appartengono ipoteticamente allo stesso utente. L'altro tipo di multisig che consideriamo è quella dove viene richiesta per riscattare l'input in questo esempio di avere almeno due su tre indirizzi. Allora, qual è la semantica che noi abbiamo dato a questo tipo di trasmissione? Di solito queste cose vengono fatte quando in qualche modo voglio assicurarmi che la transazione venga eseguita solo quando ho entrambe le chiavi non quando c'è almeno una quindi voglio essere sicuro di non averla persa le altre ma quando voglio che entrambe le entità coinvolte partecipano alla transazione. Quindi, diciamo tutte e due le chiavi devono essere coinvolte. In questo caso prima tutte e tre dicevamo che erano della stessa entità l'ipotesi che noi facciamo adesso è che queste due entità magari non sono la stessa entità ma sono in qualche modo molto correlate perché per aprire la transazione devono comunque sbloccarla entrambi. Quindi, secondo questa uristica noi mettiamo insieme questi due indirizzi. Detto questo abbiamo fatto un po' di statistiche che non mancano mai e abbiamo visto controllando tutta la blockchain fino al se non sbaglio al primo gennaio 2016 quanti indirizzi venivano clasterizzati con la multi input con la come si chiama one to one e con le multi input la quantità di indirizzi che vedete qui vi dico le percentuali essenzialmente che la multi input che è quella che usano tutti essenzialmente raggruppa il 72% degli indirizzi la one to one è il 4% e le multi input una percentuale molto bassa che è intorno all'1% che però serve a aumentare tutto quanto. quanti wallet in realtà vado a considerare però è un'altra statistica che ci piace un po' di più è perché con la multi input sono tanti i wallet che vengono creati con le one to one un numero anche questo abbastanza importante con le multi input il numero dei wallet creati non sono molti poi dovuto anche al fatto di che non sono molte le multi input al primo gennaio 2016 mentre oggi in realtà la multi input è molto utilizzata e per quanto riguarda la media dei indirizzi vediamo che in realtà le multi input sono bassi a meno dei casi specifici quelle diciamo quelle che mi garantiscono la perdita di una chiave quindi in questo caso avevo dei wallet con all'interno addirittura 47 indirizzi quindi ha clasterizzato abbastanza l'altra parte del modulo che vi dico senza rubare del tempo a Francesco vi fa vedere un po' di visualizzazione che è più carina è il mixing service allora la ricerca dei mixing service la ricerca dei mixing service da un punto di vista di analisi forense è molto importante perché dietro questi servizi anche se spacciati per aumento della privacy tutte queste cose molto belle in realtà c'è spesso un'operazione di riciclo di denaro e di un voler nascondere delle transazioni che vogliono rendere ancora più anonime che quanto una transazione pseudo-anonima può fare quindi quello che noi abbiamo fatto è questo abbiamo investito un po' di soldi investito e buttato un po' di soldi che non è un buon investimento abbiamo utilizzato cinque dei servizi di Mixnet investendoci un po' di soldi facendo le transazioni da un indirizzo nostro a un altro indirizzo nostro chiedendo al servizio di Mixnet di inviare in maniera molto nascosta del denaro da noi a noi siccome è pseudo-anonimo mi immagino che il servizio di Mixnet non abbia associato i due indirizzi alla stessa persona voglio sperare almeno questo quello che abbiamo fatto abbiamo registrato tutte le transazioni e abbiamo quindi considerato se supponiamo che in genere una transazione della Mixnet quello che fa ha a che fare con l'indirizzo originario dove ho i bitcoin che voglio investire l'indirizzo di deposito che mi viene fornito dalla Mixnet quindi sono sicuro che è della Mixnet più un po' di roba in mezzo e più certamente ho un indirizzo di ritiro che è quello dove io ricevo i bitcoin su quell'indirizzo che ho esposto quello che abbiamo fatto abbiamo fissato un K ovvero secondo noi quanti passi di transazione in media può aver fatto la Mixnet per fare tutti i suoi algoritmi nascosti di offuscamento abbiamo scelto K uguale 3 in prima analisi ovvero consideriamo tre passi a partire da questo e tre passi indietro da questo e abbiamo cattrato tutte queste transazioni e le abbiamo cominciate un po' a esaminare sono naturalmente in corso un po' di training usando delle feature delle net per capire se possiamo in qualche modo imparare e poi utilizzare con tecniche machine learning quello che abbiamo imparato su queste transazioni per andarle poi a cercare sulla blockchain normale a occhio già qualcosa abbiamo visto vi faccio vedere che sono le caratteristiche di alcuni mixing service una è questa molto carina CoinMixer che era uno di questi 5 che vi dicevo fa una cosa molto strana ovvero è una cosa che non dovrebbe fare in realtà ovvero gli indirizzi che utilizza nel rimescolare il denaro nelle varie transazioni abbiamo visto che vengono per una certa percentuale riutilizzate nelle varie transazioni al variere del tempo il che vuol dire che utilizzando le euristiche che mettono insieme nello stesso wallet i vari indirizzi utilizzati potremmo andare a raggruppare facilmente gli indirizzi che appartengono alla Mixnet un grande numero di indirizzi perché per transitività siccome supponiamo che la Mixnet utilizzi 500 indirizzi per fare questa operazione di offuscamento al passo successivo abbiamo notato dopo un tempo t che corrisponde a un'altra nostra transazione richiesta allo stesso Mixer dopo un tot di tempo essenzialmente dopo che ci hanno restituito il denaro che abbiamo investito e abbiamo fatto un'altra transazione da un altro indirizzo quello che abbiamo notato è che gran parte degli indirizzi utilizzati alla transazione richiesta al passo precedente vengono utilizzati anche a questa transazione in realtà lo schema che vedete vi fa vedere che con la prima transazione il 100% degli indirizzi vengono considerati mano a mano che si va avanti la percentuale di indirizzi utilizzati successivamente cala 99 98 97 96 ma una percentuale rimane sempre uguale quindi quello che succede in realtà con un algoritmo di clusterizzazione prima abbiamo indirizzi che siamo certi che appartengono alla mixnet al passo successivo ne abbiamo il 93 vecchi più altri nuovi che possiamo clusterizzare nello stesso indirizzo e così via andando avanti e tornando indietro nella finestra temporale possiamo diciamo ottimisticamente clusterizzare la maggior parte dei indirizzi utilizzati dalle mixnet per fare queste operazioni con il risultato di andare a individuare quali sono nelle varie transazioni quelli delle mixnet bitblender fa anche un'altra cosa carina qui lo sono Paolo e allora non ve lo dico così vi lascio parlare un po' Francesco va bene grazie Stefano buonasera a tutti provo in 5 minuti magari un po' di più a stringere su quello che vi volevo far vedere io allora la parte di visualizzazione che abbiamo già implementato vi descriverò questa abbiamo a che fare con una quantità di informazione quindi dobbiamo visualizzare una quantità di informazione abbastanza grande qui ho scritto 130 gigabyte ma sono già di più sono 155 quando faccio le slide le devo aggiornare una volta ogni tre giorni ormai con queste con bitcoin quello che utilizziamo sono tecniche di visual analytics o filtri diciamo in maniera più semplice per filtrare l'informazione e visualmente fornire all'utente un'idea di come sono strutturate le transazioni che a lui possono interessare e vi faccio vedere questo è un'applicazione come diceva anche Stefano prima cioè cercare di tracciare i flussi di denaro che ci possono interessare da quelli sul dark web ma quello più interessante era quello che diceva Stefano tipo le mixnet oppure l'applicazione che vi faccio vedere in fondo cioè tracciare i pagamenti di riscatti dovuti a ransomware come abbiamo fatto a WannaCry mi faccio vedere un po' di pagamenti richiesti da WannaCry bitcoin un topic quindi la sicurezza di cryptocurrency è un topic anche abbastanza di interesse per i progetti europei se può interessare questa era una call che è già scaduta nel 2017 l'architettura e l'applicazione in visualizzazione fondamentalmente è questa c'è una parte di front end quindi è possibile collegarsi con il proprio browser quindi si visualizza tutto tramite il proprio browser e una parte di back end dove abbiamo tutta scaricata la blockchain un database all'inizio utilizzavamo orientdb perché orientdb è un graph database molte delle query che noi facciamo sono query su grafo siamo passati poi siamo passati anche poi a utilizzare un database postgres perché orientdb è un graph database che utilizzava molto la memoria all'inizio non avevamo molta memoria quindi siamo passati su questo che è un database relazionale più classico adesso che abbiamo comprato hardware con 128 giga di RAM insomma ci stiamo un po' espandendo forse vorrebbe anche la pena riprovare a vedere come funziona bene come performance orientdb l'architettura è fondamentalmente questa quindi un database quindi prendiamo la blockchain bitcoin raw abbiamo un nodo nostro riempiamo il database orientdb o postgres quello che volete voi e poi facciamo delle query e l'utente diciamo finale dal proprio browser seleziona vari filtri per filtrare l'informazione e arrivare a visualizzare quello che a lui interessa vado veloce questa è l'interfaccia del browser ok quindi aprite una pagina comune vi appare questa applicazione qua dove potete scegliere varie visualizzazioni e questa è quella isola come vedete ci sono due tipi di nodi quelli più grossi sono gli address quindi sono gli indirizzi bitcoin quelli più piccoli sono le transazioni ok quindi è un grafo bipartito tra nodi tra indirizzi e transazioni e vari filtri sia a sinistra e a destra varie informazioni su se cliccate sul nodo varie informazioni sul nodo tipo il bilancio quindi quanti bitcoin sono finiti su cui l'indirizzo ancora non sono usciti il colore diventa più scuro se è un accumulatore di bitcoin ok quindi più scuro è vuol dire che più ha incamerato bitcoin senza spenderli attraverso altre transazioni quindi questa è la visualizzazione base di un'isola vi parlo delle isole perché la prima visualizzazione che otteniamo quindi la prima la prima interfaccia che voi vedete vi permette vi visualizza questo cioè vi visualizza tutta la blockchain bitcoin partizionando le transazioni in isole differenti questo è tutto l'arcipelago di tutte le transazioni bitcoin partizionate tra loro quindi vuol dire che non c'è nessuna transazione che va da un nodo di quest'isola a un nodo di un'altra isola ok questa è la prima fase in cui è possibile avere una visualizzazione di tutta la blockchain è qui ok è tutta qua raggruppata partizionata per transazioni a questo punto quello che si può fare è cliccare oppure cliccare su una delle isole e entrare dentro oppure filtrare in base a dei criteri le isole una slide dopo credo filtrandole si ottiene un numero di isole minore cliccando su prima di entrare nell'isola desiderata si può filtrare ancora l'informazione in modo da cercare di ridurre ancora di più quello che poi si vedrà sullo schermo e alla fine quando si fa visualizza show island visualizza isola si arriva a tutte le transazioni quelle che vi ho fatto vedere prima quindi si entra proprio dentro l'isola e si fa vedere i nodi quello che vi ho detto prima quindi i nodi più grandi sono gli indirizzi e quelli più piccoli sono le transazioni questa è la prima schermata che vedete come vi dicevo quindi questa è tutta la blockchain partizionata in isole qui potete filtrare forse qua giù parte l'animazione vediamo se mi riesce eccolo qua partita ma è partito qualcosa quindi selezionando per esempio il tempo quindi l'altezza dei blocchi potete filtrare per blocchi oppure per quantità di bitcoin mossi all'interno di ciascuna delle isole quindi ne volete vedere solo quelle che hanno un ammontare bitcoin superiore a 100 bitcoin oppure tra 100 e 300 bitcoin oppure per numero di transazioni quindi volete vedere quelle più grandi o quelle più piccole sono tutti slide ve le potete selezionare come vi pare a voi o scrivendo ok quindi tra 1 e tot numero di transazioni oppure potete filtrare per miner volete vedere tutte le isole che hanno un solo miner volete vedere tutte le isole che hanno più di 20 miner e così via quindi questi sono tutti i filtri potete come facevo vedere animazione potete filtrare quindi si vedranno sempre meno isole quindi potrete andare a vedere solo quelle che a voi vi interessano in base ai criteri sulla sinistra e poi cliccandoci potete entrare e vedere un'isola vari filtri che si possono applicare sono per esempio evidenziare i miner quindi da qui siete entrati dentro un'isola che a voi piaceva visualizzare potete qui ci sono altri filtri su questa visualizzazione per esempio cliccando su miners vi evidenzia in blu tutti i miner che ci sono dentro l'isola ok altra cosa interessante potete selezionare solo le radici dei flussi di denaro quindi potete vedere da dove parte il denaro e dove arriva ok questa ve la ve la posso risparmiare questo è un riassunto di tutti i possibili filtri che potete applicare sulle isole quindi grafo iniziale evidenziare i miner nascondere le transazioni coinbase evidenziare le foglie cioè dove arrivano i soldi e da dove non partono più selezionare solo le transazioni con un certo intervallo di valore mostrare solo le radici dei flussi e combinare vari filtri in modo da ottenere quello che volete in poche parole cose interessanti che si possono vedere in questo caso abbiamo selezionato un'isola e qui evidenziando tutti i miner vediamo che i nodi di tutta l'isola sono tutti miner quindi questo potrebbe essere un pool di miner quindi si sono messi d'accordo tutti questi nodi miner quello che accumulano spostano dentro un nodo pozzo quindi tutto quello che riescono a minare viene accumulato in un solo nodo che poi si spartiranno in qualche maniera da questa visualizzazione questi hanno accumulato c'è tutto accumulato qua e non è ancora uscito niente quindi hanno accumulato senza spendere quindi un pool di miner che accumula se avete in indirizzo una transazione che ha fatto parte di un certo attacco la potete scrivere quindi c'è anche una visualizzazione per transazione automaticamente vi appare l'isola che vi fa vedere la transazione in oggetto per esempio questa era relativa a un attacco a cripsy.com hackerato nel luglio 2017 per 13.000 bitcoin quindi vedete questi erano gli indirizzi di cripsy qui è andato via il puntatore questi erano gli indirizzi di cripsy questa è la transazione hanno bucato cripsy questa è la transazione che ha spostato i soldi da qua verso queste destinazioni dove sono rimasti ancora non sono stati mossi questi vedete che sono gialli perché sono spostati tutti i soldi questi più rossi perché sono stati accumulati là e ancora non sono stati spostati un'altra che vi dico velocemente applicando vari filtri da questa enorme isola possiamo arrivare a capire che sono solo questi due nodi che si scambiano transazioni e ora passo all'applicazione per esempio ho un'applicazione che abbiamo fatto un'applicazione in visualizzazione abbiamo studiato WannaCry una settimana dopo ok una due settimane dopo abbiamo studiato una settimana e due settimane per vedere gli effetti di questo ransomware su dal punto di vista dei pagamenti per cercare di capire quanti vittime erano state perlomeno quante vittime avevano pagato ok non quanti erano erano stati colpiti ma quanti avevano pagato brevemente la storia di WannaCry è un ransomware quindi se eravate infettati vi criptava il disco e richiedeva un riscatto da pagare entro tre giorni o sei giorni non me lo ricordo quindi era 300 o 600 dollari ok a seconda se pagavate subito o dopo otto giorni altrimenti non vi decrittava il disco ok quindi vi teneva in ostaggio tutti i dati che avevate sul vostro disco ha colpito ci sono varie statistiche su quanti computer ha colpito si basava su un exploit su questo servizio di Windows sul server message block di Windows richiedeva un riscatto di 300 dollari che dopo tre giorni ok 300 dollari subito dopo tre giorni raddoppiava 600 dollari quindi cercava di farvi pagare subito prima possibile nell'applicazione visualizzazione che abbiamo fatto studiamo queste ok queste tutte le transazioni dal 12 maggio 2017 il giorno in cui è stato lanciato al 18 maggio 2017 quindi una settimana dopo e quindi filtriamo e cerchiamo di vedere tutta l'informazione in tutti i pagamenti e questo è il risultato fatto con l'applicazione che avete visto prima questi sono i tre indirizzi a seconda della zona geografica il ransomware vi chiedeva di versare il pagamento in bitcoin su un indirizzo differente i tre principali si pensa che siano solo questi tre sono questi address bitcoin 1 2 3 quindi vedete tutti i pagamenti che sono stati fatti a questo indirizzo a questo indirizzo e a questo indirizzo quindi questi sono gli input la transazione quindi da chi è partita la transazione versava soldi sia a questo nodo sia a tutti questi altri nodi che vedete ok quindi una singola transazione muoveva sia il riscatto sia vari altri bitcoin su altri nodi ok e qua giù vedete una rappresentazione con tutti e tre i nodi che evidenzia le transazioni in comune cioè chi aveva pagato qualche cosa a tutti e tre gli indirizzi ransom vado a veloci da quello che abbiamo visto il numero di quello che è stato versato credo nella prima settimana era una cosa del genere quindi 44 bitcoin in totale su tutti e tre gli indirizzi questo di più questo un po' di meno questo ancora di meno quello che può essere interessante far vedere molti pagamenti erano effettivamente vicini a 300 600 dollari c'erano molti altri che invece erano molto bassi quindi chissà a cosa corrispondevano tipo chi voleva provare a fare una transazione di un dollaro verso uno di questi indirizzi tanto per comparire nel vittime tanto per farsi vedere nella blockchain cose anche strane quindi la maggior parte dei pagamenti l'89% di quelli di quella montare che vi ho fatto vedere prima è stato collezionato durante la prima settimana anche perché come il ransomware è stato bloccato dopo tre giorni quindi l'infezione si è subito stoppata ma ci sono stati vari pagamenti anche successivamente di gente che si era accorta di essere stata colpita successivamente un'altra cosa che vi faccio vedere e finisco qua ci sono anche delle transazioni strane come vi dicevo qualcuno si voleva fare pubblicità probabilmente alcuni pagamenti verso tutti e tre gli indirizzi partivano da un indirizzo bitcoin che iniziava con un nome forse era uno che si chiamava aveva generato questo indirizzo con il suo nome oppure il presidente della repubblica Spresca potrebbe essere anche quello si può fare politica chiunque può vedere sulla bitcoin sulla blockchain chi è che aveva pagato chi siccome erano nodi molto attraenti dal punto di vista della visualizzazione questo per esempio ha provato a far girare il suo nome quindi aveva fatto un pagamento da un indirizzo verso tutti e tre con un indirizzo che partiva con una sottostringa che era chissà forse il suo nome un altro invece aveva fatto un pagamento verso tutti e tre i nodi con un indirizzo che partiva uno con new quindi aveva fatto quattro transazioni un indirizzo che aveva utilizzato come perversare partiva con you un altro con ar un altro con a e un altro con una parolaccia quindi aveva voluto mandare diciamo un messaggio al titolare dell'indirizzo verso cui erano stati pagati i riscatti insomma un messaggio di affetto ok esatto future work vi dico velocemente cosa si potrebbe fare filtri automatici per esempio come avete visto dovete selezionare tutti i filtri per arrivare a visualizzare quello che voi volete per esempio i flussi di denaro oppure solo i miner e così via potrebbe essere interessante stenderlo con una serie di filtri automatici che non vi fa da sé un filtro invece che voi stiate lì a selezionare a mano tutta la pipeline dei filtri un'analisi temporale non c'è quindi una visione statica della blockchain come un'analisi continua e anche una notifica automatica se per esempio l'analisi è continua e ci si accorge di un comportamento strano potrebbe essere interessante notificare qualcuno che sul nuovo blocco minato c'è un comportamento o sugli ultimi 10 blocchi minati c'è un comportamento un po' strano oppure ci sono delle transazioni di un mixing service come ha detto Stefano prima o cose del genere finisco con questa quindi vi dicevo che stiamo lavorando anche a espandere qui vediamo un po' di persone del gruppo che ci hanno lavorato sull'applicazione in generale su tutti i bitcoin su quello che facciamo sui bitcoin e un server che abbiamo comprato e che pensiamo di espandere per appunto lavorare sopra e estendere ancora di più la visualizzazione con i future work che vi ho appena detto e qui finisco grazie mille per l'attenzione grazie mille Grazie.